Ora è possibile farsi consegnare a casa la pensione direttamente dai carabinieri. Il nuovo servizio è stato lanciato da poste italiane e dall'arma. Grazie alla Convenzione, si legge in una nota, tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro in contanti al proprio domicilio, delegando al ritiro i militari. Ci sono però alcune limitazioni. Non potranno fare richiesta specifica e comunicato coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, che abbiano un libretto o un conto postale, che vivano con i familiari o laddove questi abitino nelle vicinanze. Tra gli obiettivi dare un sostegno agli anziani, limitandone le uscite di casa e tutelarli dai reati come truffe, rapine e scippi. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde, in sovraimpressione 800 55 66 70 o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri. Il servizio sarà garantito per l'intera durata dell'emergenza coronavirus. Un bene anche per i residenti del decimo municipio che nei giorni scorsi sono stati alle prese con lunghe code davanti agli uffici, in particolar modo di fronte alla posta centrale di Ostia, dove si sono verificate situazioni assolutamente da evitare. Distanze di sicurezza non rispettate e assembramenti. Problemi dovuti soprattutto al fatto che alcune filiali sono chiuse o aprono con orario ridotto. A complicare ancora di più le cose sono i posta mat spesso fuori uso e quindi inutilizzabili. Per questo mese le pensioni sono già state ritirate, mentre quelle di maggio verranno consegnate in anticipo, a partire dalla fine di aprile. L'iniziativa messa in campo con l'arma servirà proprio ad eliminare i problemi registrati fino ad oggi.